Nuova ondata di maltempo sull'Abruzzo, vento forte, pioggia e un brusco calo delle temperature con la neve acqua anche bassa e il nevischio che in alcuni istanti è caduto perfino sulle zone costiere. A creare problemi soprattutto le raffiche di vento che hanno sferato i 125 chilometri orari a Campo Imperatore dove la temperatura è precipitata a circa 10 gradi sotto zero. Sulla statale 16 tra Silvia e Pineto nei pressi della Torre del Cerrano un albero è caduto in strada travolgendo un'auto in transito. L'automobilista alla guida è rimasto lievemente ferito. In pieno centro a Pescara in via la Regina Margherita un grosso albero è caduto sulla carreggiata danneggiando le auto in sosse e creando problemi alla viabilità ma senza miracolosamente provocare danni a persone in un tratto di strada sempre molto trafficato. Numerosi su tutto il territorio regionale gli interventi dei Vigi del Fuoco. Disagio anche a Ortona dove il sindaco Castiglione stamani ha deciso la sospensione delle attività didattiche per motivi di sicurezza a causa delle difficoltà nella circolazione dovute alla presenza di alberi, rami e cassonetti spazzati dal vento su diverse strade cittadine. A Sulmona quattro asini e due cavalli fuggiti da un recinto nella frazione Marane sono finiti in strada creando non poche difficoltà al traffico veicolare che ha subito rallentamenti per oltre mezz'ora mentre il forte vento ha sradicato una delle telecamere poste nell'area esterna del parcheggio di Santa Chiara. Nella zona industriale sono scattate le verifiche per pali della luce e cavi dell'energia elettrica. Le condizioni meteorologiche avverse proseguiranno con pioggia, nevischio e vento forte anche nelle prossime 24 ore.